e dato un sostegno e fate l'abbonamento base se volete seguire i miei seminari. Salutiamo anche Pippoli e partiamo, partiamo e vediamo quindi come diventare, diciamo, una donna di qualità, vediamo quindi cosa fare per diventare, salutiamo anche Antonio, Antonio, vediamo come se vuoi conquistare l'uomo giusto diventa una donna di qualità, salutiamo anche Barbie, salutiamo anche Barbie, salutiamo un po' tutte le persone, io non so che qua dicono che io faccio, diciamo, io non do consigli a nessuno, che meno alle scrocone che non fanno mai donazione al canale, come ad esempio Lucia che non fa mai abbonamenti e richiede pure, richiede pure dei consigli, dei suggerimenti, questo veramente lo trovo assurdo. Gli scrocconi devono smettere di scroccare, comunque. Allora, vediamo un attimino, vediamo un attimino quindi di comprendere un po' di cose. Allora, intanto una donna di qualità sicuramente viene vista di qualità, salutiamo anche la nostra Barbie, viene vista di qualità anche dall'aspetto fisico fondamentalmente. Certo che l'aspetto fisico è quello che è, però siccome la qualità, diciamo, passa anche, siccome la qualità passa anche, diciamo, dall'aspetto fisico e questo è un punto fondamentale, no, che dobbiamo tenere presente, ogni donna dovrebbe valorizzare un po' il suo corpo, anche perché, come possiamo dire, non è così difficile, diciamo, non è così difficile valorizzare se stessi il proprio corpo, è possibile farlo, dobbiamo però, cioè le donne dovrebbero tenere presente il tipo di fisico che hanno. Ogni donna ha un tipo, ogni donna ha un tipo di fisico e ogni persona, diciamo, e ogni persona dovrebbe essere, come possiamo dire, e ogni persona dovrebbe valorizzare un po' il suo, e ogni persona dovrebbe valorizzare un po' il suo tipo, il suo fisico fondamentalmente. Ovviamente ci sono diversi tipi, tipologie, diciamo, di fisico femminile, troviamo la donna con la forma clessidra, la donna con la forma pera, la forma triangolo, la donna con la forma mela o a cerchio, la donna forma rettangolo e la donna forma triangolo rovesciato o cono. Allora, la forma clessidra è indubbiamente quella che piace di più. La forma clessidra è indubbiamente, salutiamo anche Patrizia Perotti, grazie Barbie. La forma clessidra è indubbiamente quella che piace di più, perché la forma clessidra è quella tipica 90-60-90, no? Quindi è una donna che ha un seno procace, un punto di vita sottile, i fianchi generosi, 90-60-90. Comunque potrebbe anche avere un seno non grandissimo, ma è comunque armonica, no? Perché la vita è stretta, spalle e fianchi sono della stessa dimensione. E questa è la donna che seduce di più. Salutiamo la Nespola. Perché questa donna seduce di più? E questa donna seduce di più per il semplice fatto che è quella che sembrerebbe ha più possibilità, diciamo, di diventare fertile, di dare una, come possiamo dire, di dare una sua armonizzazione, no? Di generare una progenie e quindi è quella che piace di più. La donna clessidra 90-60-90 è quella che fisicamente, istintivamente, attira di più il maschio. Poi abbiamo la forma pera o a triangolo con la punta verso l'alto. La forma pera è quella, diciamo, ovviamente no, tornando all'abbigliamento, perché l'abbigliamento è importante, se appartiene a quella categoria della forma a clessidra, diciamo, tu puoi usare tutti i tipi di abito fondamentalmente, no? Ti sta bene qualunque tipo di abito, non hai problemi. Ovviamente puoi utilizzare, ad esempio, le cinture per esaltare il tuo punto vita sottile, quello è importante. Puoi utilizzare i tubini neri, sono un classico, aderenti. Se hai anche un bel lato B, mettilo in mostra, ma senza, diciamo, ovviamente apparire puttanona da corsa, che tra l'altro la puttanona da corsa è anche una, come possiamo dire, la puttanona da corsa è anche una situazione, diciamo, la puttanona da corsa è anche una situazione che viene, che verrà rappresentata nel, che verrà rappresentata nel, come si chiama, nei taratarot fondamentalmente. E quindi abbiamo questo. Poi abbiamo la forma a triangolo, la forma, scusate, la forma a pera o a triangolo, a triangolo in questo caso, che è contraddistinta da spalesidi, seno piccolo, diciamo, busto stretto, ma il culo a pera, il culone fondamentalmente, no? Quella che Berlusconi diceva della, come si chiama, della, come si chiama, della merche, no? La culona, e quelle sono quelle con le spalle strette e il culone grosso. Ovviamente, se appartiene a questa categoria, alcune cose non potrai utilizzarle fondamentalmente, è ovvio, no? Perché ci sono alcune cose che non puoi utilizzare. Ad esempio, tu non puoi utilizzare gli abiti larghi, perché devi cercare di mettere in evidenza il tuo punto di forza, che è la zona superiore. Ovviamente, salutiamo anche Davie, non puoi utilizzare, ma anche, cioè non dovresti utilizzare pantaloni, pantaloncini o gonne corte, perché normalmente questo tipo di donna pera ha il coscione grosso, ha il prosciuttone di Parma. Ringraziamo della donazione, ringraziamo, ho visto una donazione, non so chi l'ha fatta, comunque, ah, Barbie, grazie Barbie dalla donazione. E comunque non possiamo, non conviene, diciamo, per una persona con fisica pera, utilizzare questo tipo di situazione. Non conviene utilizzare questo tipo di situazione. E poi, ovviamente, diciamo, hai la coscia a salsicciotto fondamentalmente, quindi non conviene. Poi abbiamo, invece, quella a mela, quella a mela, quella a mela è quella che, o a cerchio, diciamo, che è la parte centrale del corpo, è più morbida, diciamo, c'è una pancia un po' prominente, un po', ha un po' di pancia, diciamo, la donna a mela ha la pancia. Il punto di forza della donna a mela sono un po' le gambe, che spesso sono magre. Però, tendenzialmente, la parte di sopra della donna a mela è abbastanza corposa, no? Quindi, ovviamente, anche qua ci vanno degli abiti. puoi usare abiti, diciamo, stile impero, oppure vestitini sopra il ginocchio, talvolta anche i leggings, anche gonne, diciamo, dritte, un po' svasate, insomma, ci sono diverse cose che poi devi cercare di evidenziare, salutiamo anche Sara Levi, meno la panza, perché salutiamo anche, non so chi c'è, donna di panza, donna di sostanza, però, e poi abbiamo, gli abiti troppo fascianti o attillati non vanno bene perché la donna a pera, la donna a mela, scusate, ha un po' di pancia, e quindi non conviene. Poi abbiamo, vado un po' veloce, la figura a rettangolo, che è quella, longilinea, filiforme, il corpo magro, ha poco seno, sedere piccolo, diciamo, è un po' un rettangolare, insomma, questo tipo di donna, diciamo, dovrebbe, può indossare quasi di tutto, però dovrebbe cercare, diciamo, di utilizzare qualcosa che la renda un po' più curvi, tra l'altro, è anche molto suggerito, in questo caso, di fare squat, esercizi fisici di squat, che fanno venire un po' di culo, fondamentalmente. Poi abbiamo la siluetta triangolo rovesciato, cono, che ha le spalle larghe, ma il seno stretto, un po' come la nuotatrice, no? Ad esempio, la Federica Pellegrini, ha questo tipo di, diciamo, e si trova tantissimo nelle nuotatrici, no? Perché hanno lavorato da piccole, tantissimo la parte superiore, le spalle, poco la parte inferiore, quindi, salutiamo il gambino. Quindi, anche in questo caso, bisogna, diciamo, cercare di vestirsi, nel modo migliore. Ecco, queste sono un po' le cose principali, per quanto riguarda il look. Ovviamente, come dire, ovviamente, ognuna deve scegliere il suo, se non sei fortunata, ad avere un fisico a clissidra, che può indossare praticamente tutto, negli altri, devi cercare di indossare, degli abbigliamenti, che ti valorizzino, che valorizzino, un po' i tuoi punti di forza, fondamentalmente. Poi, ovviamente, ad esempio, ci sono le scarpe. Le scarpe, sono un elemento fondamentale, per una donna, diciamo la verità, perché il genere maschile, e questo posso dirlo, il genere maschile, non soltanto i feticisti, diciamo, non parliamo di feticisti, che quelli hanno, una depravazione, poi, per carità, tutto è lecito, è quello che piace, però il feticista è un po', non dico depravato, ma insomma, ha un po' di cose particolari, ma quindi il genere maschile, quindi non parlo di feticisti, ama i tacchi, no? Perché i tacchi, che cosa fanno? I tacchi, slanciano il polpaccio, valorizzano comunque le caviglie, esaltano il piede, diciamo, tra l'altro, sollevano il lato B, e tra l'altro hanno anche un vantaggio, no? I tacchi, che se uno li sa portare, perché se uno li sa portare, cammini con i tacchi, come cammineresti con, come cammineresti con gli anfibi, e beh, allora, allora non ottieni nessun, nessun risultato, però il tacco, diciamo, dà quella datura un po' incerta, è ondeggiante, che però è molto erotica, e piace molto, no? Quindi, vi sono tantissimi tipi di tacco, ovviamente non esagerare, diciamo, il tacco giusto potrebbe essere 10, tacco 10, qualche volta tacco 12, ma non direi di andare mai oltre il tacco 12, se no diventa un'esagerazione, le zeppe sono da troione da corsa, le zeppe sono da troione da corsa, perché non vanno bene, quelle zeppe che metti le zeppe così, più il coso, quelle sono un po' da mignotone da corsa, ma, diciamo, il tacco 10, 12, può essere la misura giusta, se una donna è molto alta, potrebbe anche optare per un tacco 8, se una donna è molto alta, sì, il tacco 10, cioè, se una donna è già alta, potrebbe essere tacco 8, diciamo, poi dipende un po' dalle situazioni fondamentalmente, dipende un po' dalle situazioni, ovviamente i tacchi agli uomini piacciono, diciamoci la verità, perché è ovvio che, diciamo, non devi zompettare come una gallina con l'emoroidi, perché se con i tacchi cammini, come se fossi una gallina con l'emoroidi, allora, diciamo, che ha appena fatto l'uovo, una gallina con l'emoroidi che ha appena fatto l'uovo, ci sono certe donne che non sanno camminare sui tacchi, e sembrano delle galline con l'emoroidi che hanno appena fatto l'uovo, e allora in questi casi, in questi casi non va bene, però, ovviamente anche gli accessori sono importanti fondamentalmente, no, sciarpe, fulare, eccetera, ovviamente anche la sensualità, no, magari la calza velata, qualcosa del genere, ad esempio, vabbè, non siamo più in questa cosa, però, un esempio di donna femminile, diciamo, ma questa è anni 20 o anni 30, è la Marlene Dietrich, no, una fan fatale, secondo me, per eccellenza, no, degli anni 20 o degli anni 30, ovviamente, è anche interessante, no, è anche interessante, è anche interessante, secondo me, Massimo Altissimo, io, no, sono, ero 1,81, poi, su una nuova creata entità, mi hanno segnato 1,83, mi hanno aumentato di 2 centimetri, comunque, allora, anche, e anche, diciamo, il sexy ma austero, il sexy ma austero, è un, il sexy, 1,76, mi fa piacere, il sexy ma, il sexy ma austero, è un qualcosa di interessante, no, il sexy ma austero, ad esempio, un look da, un look da segretaria, diciamo, castigata, con tagliore aderente, ecco, questo è un look, sembrerebbe, sexy ma austero, no, tanto per dare un look da sexy ma austero, è il look da segretaria, fondamentalmente, no, tagliore aderente, camicetta leggermente sbottonata, la calza con la riga, e, diciamo, un decolleté a stiletto, e, questo, eh, gli occhiali, e, può essere un qualcosa di, interessante, salutevamo anche Cristina, ecco, queste sono, eh, sono cose, eh, sono cose interessanti, eh, quindi, poi ci sono anche, ad esempio, l'abito, il look da diva anni 40, un po', oggi si è perso, no, perché è un look molto fasciante, il seno strizzato, ci sono tante, tante possibilità, no, e quindi dipende un po', no, però, diciamo che, eh, le cose, secondo me, eh, fondamentali, sono una camicetta bianca, un tubino nero, una scarpa col tacco, e, eh, almeno un capo, magari un po' in pizzo trasparente, potrebbe essere, un, qualcosa di interessante, senza esagerare, però, senza esagerare, ovviamente l'abito è solo un accessorio, quindi, eh, l'abito è solo, è solo un accessorio, ovviamente se hai, per dire, un fisico a mela, il fisico a mela, ricordiamo, è quella con la pancia, e, eh, le spalle, e i fianchi non tanto larghi, e la parte superiore delle spalle è più larga, se hai un fisico, se hai un fisico a mela, non devi mettere abiti fascianti, che ti evidenziano la pancia, perché, va bene che donna di pancia, donna di sostanza, però, eh, non conviene, eh, avere la pancia in vista, quindi, secondo me, comunque, in generale, un tubino nero, un trench, eh, un, le scarpe col tacco, possono essere, diciamo, delle, eh, un look che può andar bene, insomma, eh, poi ovviamente, eh, ci sono molte altre cose, che andremo a vedere, ovviamente anche il profumo, è importante, il profumo, come dico sempre, non devono essere, i profumi non devono essere, eh, eccessivi, perché se hai profumi eccessivi, fai vomitare gli uomini, fai vomitare gli uomini, eh, quindi profumi non eccessivi, profumi devono essere freschi, devono sapere di pulito, il profumo deve darti un'idea di pulito, quindi, per prima cosa, lavati, e poi profumati, non fare come, eh, la regina, come si chiama, Maria Antonietta di Francia, che non si lavava e si riempiva di profumo, questo è un punto, è un punto importante, no? e poi, ovviamente, eh, il make-up, il make-up, ci deve essere, no? Il make-up, ma sottile, eh, se volete utilizzare make-up, poco, poco make-up, se usate tanto make-up, passate anche qua, o da troione da corsa, oppure passate, oppure passate da che cosa? Se non passate da troione da corsa, passate da maschere da circo, quindi, eh, queste sono state fatte proprio delle statistiche, delle analisi, che un trucco leggero migliora, se il trucco diventa pesante, allora è meglio non avere trucco, è molto meglio non avere trucco, eh, se, eh, è molto meglio non avere trucco, se, eh, salutiamo Sissi, è molto meglio non avere trucco, piuttosto che avere un trucco pesante, da puttanona da corsa, eh, quindi, agendo un po' sul tuo, poi ovviamente devi valorizzare, no, la cosa che ti piace, d'altra parte, per non sembrare troione da corsa, se metti una gonna un po' più corta, dovresti coprirti un po' di più la parte di sopra, se scopri un po' di più la parte di sotto, dovresti mettere una gonna un po' più lunga, insomma, questo, eh, questo vale. Il make-up giusto, diciamo, che è quello, eh, diciamo, tenue, è quello che, diciamo, è quello che può fare anche la differenza. eh, ovviamente, queste sono solo alcune, alcune cose, poi, ci sono anche i colori, ringraziamo la nostra Patrizia Perotti, che volesse fare una donazione, può fare una donazione, tranquillamente, come la nostra Patrizia, che ringrazio. e poi, ovviamente, ci sono altre cose, eh, ci sono altre cose, che, eh, sono fondamentali. Bah, i tubini, ma li poteva mettere anche tua nonna, però, i tubini, sono, eh, hanno sempre un, non so che, di positivo, piacciono gli uomini. Il look da segretaria, con tubino nero, calza velata, tacco, diciamo, il giusto, e una camicetta bianca, magari un po' sbottonata, può andare sempre bene. Gli occhiali, eh, comunque, detto questo, vediamo che il make-up è fondamentale, ma deve essere leggero. Un'altra cosa, che vi suggerisco di osservare un pochettino, se qualche persona vuole osservare, è un po', è un po', diciamo, l'armocromia. L'armocromia è, diciamo, la teoria dei colori fondamentali, no? Ovviamente, i colori fondamentali, che non possono essere creati da altri, sono il rosso, il giallo e il blu, Tutti gli altri colori, sono colori secondari, che vengono creati, da altre coppie di colore. Ad esempio, il giallo, poi ogni colore, ha un colore complementare, il giallo, al complementare il viola, il rosso, che è primario, al complementare il verde, insomma, il blu è complementare all'arancio, ma questo per dire che cosa? Per dire che ogni persona, in base alla carnagione, in base al colore dei capelli, in base a tante circostanze, ha, diciamo, dei colori, che valorizzano di più. Quindi, ovviamente, salutiamo anche Andrea Giovani, quindi, se una donna volesse, diciamo, e comunque, sono quelle piccole differenze, e comunque, sono quelle piccole differenze, che fanno, la differenza, fondamentalmente, e questo, e questo, è importante, no? Questo è molto importante. Ogni persona, diciamo, ogni persona, ha le sue, diciamo, caratteristiche fondamentali, no? Quindi, dobbiamo renderci conto, che usare i colori, può fare qualcosa di più. Poi, anche lo sguardo, no? Ad esempio, lo sguardo, se riuscite ad avere un effetto, occhi da gatta, fondamentalmente, se riuscite ad avere un effetto, occhi da gatta, occhi da gatta viva, però, non da gatta morta, riuscirete a ottenere, dei risultati. Ad esempio, l'eyeliner, può aiutare, insomma, ci deve essere un po' di trucco, soprattutto a valorizzare gli occhi, senza avere, diciamo, eccessivo, però, non devi sembrare che ti hanno appena tirato un pugno nell'occhio, insomma. Ecco, questo, per quanto riguarda un po', il discorso piacere, perché comunque, l'abito fa il monaco, per meglio dire, fa anche la monaca, anzi, per, non i baffi da gatto, non i baffi da gatto. ovviamente, questo, questo è importante, no? Le labbra, ad esempio, ecco, io ho una cosa che suggerisco, evitate, poi fate come cazzo volete, evitate la chirurgia estetica, di farvi i canotti, cioè, tenete presente che le labbra, potete renderle un po' più carnose attraverso il make-up, ma cercate di evitare, cercate di evitare, assolutamente, di prendervi tutte quelle siliconate, perché le siliconate fanno cagare, salutiamo Tug, le siliconate fanno cagare, ringraziamo anche Michele Pippoli, grazie Pippoli, le siliconate fanno cagare, evitate il silicone, più che potete, evitate il botulino, più che potete, perché se avete silicone, botulino, eccetera, eccetera, non funziona, il rossetto, diciamo, mettete un rossetto, ecco, una cosa, una cosa che fa schifo, è il rossetto che si disfa, cioè, mettete piuttosto poco rossetto, o mettete quel rossetto che non macchia, quel rossetto che resta, piuttosto lì, sì, fatevi un tatuaggio, ecco, piuttosto un tatuaggio del rossetto, ma quel rossetto che si sperde, che sembri Dracula, che appena ha morsicato uno sul collo, ci sono quelle che magari col caldo, dopo un po', il rossetto scende, e hanno il rossetto, poi vanno a pasticciarsi, e questo sembri veramente Dracula, che appena ha morsicato una, e questo è, e questo è un punto fondamentale, e lo sguardo è importante, come dice Cristina, lo sguardo è importante, devi, ho il rosso sui denti, brava Roxy Rosa, il rosso sui denti, poi ad esempio, lo sguardo deve essere, occhio sinistro, occhio destro, bocca, e non deve durare, più di tre secondi, occhio sinistro, occhio destro, bocca, occhio sinistro, occhio destro, bocca, cioè, variate leggermente il focus, perché a livello non verbale, questo è molto fondamentale, perché, occhio sinistro, occhio destro, bocca, vai a colpire, emisfero sinistro, emisfero destro e la bocca, questo è, diciamo, importante, come sguardo, e deve durare, fate conto, lo sguardo deve essere, tre secondi guardo, un secondo non guardo, tre secondi guardo, un secondo non guardo, tre secondi guardo, un secondo non guardo, questo è, se ovviamente deve sembrare in modo naturale, ovviamente, comunque, una donna di qualità che si rispetti, diciamo, deve essere sempre a posto, quindi, non lo dico neanche, ma una donna di qualità che si rispetti, non può avere la ricrescita dei capelli, una donna di qualità che si rispetti, non può avere le unghie, con lo smalto rovinato, e non può avere neanche le unghie da tigre, dai denti a sciabola, quindi, una donna che si rispetti, i capelli, dovete tenerli a posto, diciamo, no, non dovete avere la ricrescita, e dovete, diciamo, i capelli, tra l'altro i capelli fluenti, i capelli lucidi, i capelli puliti, rappresentano fondamentalmente anche la salute, ed è forse per questo, che gli angeli si ingrifavano, quando vedevano una donna con i capelli lunghi, quindi questo, secondo me è importante, i capelli devono essere curati, ovviamente una donna con i capelli lunghi, è più attraente di una donna con i capelli, di una donna con i capelli corti, i capelli lunghi, i capelli folti, fluenti, diciamo, danno un'idea di sensualità, i capelli, per una donna che ha i capelli, diciamo, non come me, che non ne ha, cerchi di valorizzare i capelli, no, è ovvio che se ti tieni i capelli sporchi, con la ricrescita, con la cosa, beh, perdi molto, diciamo, no, anche, secondo me, le tinte improbabili, no, le tinte fucsia, secondo me, il colore dei capelli dovrebbe essere naturale, cioè, è ovvio che, quando una, come voi, diventa anziana, i capelli diventano bianchi, ma, se sei nata nera, è inutile che ti fai bionda, se sei nata bionda, è inutile che ti fai nera, o rossa, o, diciamo, tinte fucsia, diciamo, secondo me, non sono, non sono la cosa migliore, fondamentalmente, quindi, mantenere la cosa, una donna in qualità, e queste sono cose, secondo me, abbastanza, diciamo, basic, fondamentalmente, no, è ovvio che poi dipende molto dall'età, fondamentalmente, ecco, le mani devono essere morbide, levigate, ecco, una cosa interessante, una donna con le mani piccole, ovviamente, se tu hai le mani, se tu hai le mani, se tu hai le mani, hai le mani grandi, non è femminile, e le mani piccole sono più femminili, certo è che, se tu hai le mani, hai le mani grosse, hai le mani da camionista, cerchi in qualche modo, di renderle magari più morbide, più levigate, ecco, le mani non devono essere nodose, cioè, se sei fortunata, e hai le mani piccole, piacciono molto di più agli uomini, agli uomini, non si sa perché, ma statisticamente, piacciono di più, le donne con le mani piccole, e i piedi piccoli, però, è ovvio che se c'hai un piedone, e se c'hai, se hai un piedone, e se hai le mani grosse, piaci di meno, però, devi cercare, attraverso il make up, di renderle almeno morbide, quindi le mani devono essere morbide, levigate, pulite, sane, ordinate, con le unghie a posto, e questo è fondamentale, e, se ti mangi le unghie, se soffri di ogni ecofagia, curatela, perché le unghie devono essere a posto, non devono essere unghione, da tigre dei denti a sciabola, da zoccolona, da competizione, quindi, questo è un punto fondamentale, ovviamente gli accessori vanno bene, gli accessori vanno bene, quindi, anche, degli accessori, delle cose, questo è per quanto riguarda, diciamo, gli aspetti principali, dicevi, i capelli, anche, il taglio di capelli, deve essere adatto, un po' al viso, ovviamente, qua, non sono esperti in questo, però, diciamo che, a seconda, se hai il viso, vale, il viso qua, anche il viso, alla seconda della forma del viso, puoi valorizzarlo, col taglio di capelli, no, io purtroppo, sono fortunato, perché ho il viso tondo, no, e quindi, il viso tondo, vedete che io ho il viso tondo, e quindi, non ho bitorzoli, e quindi, come maschio, vado bene con i capelli, anche con la testa rotonda, no, però, ci sono persone, che hanno il viso ovale, alcune che hanno il viso quadrato, alcune che hanno il viso oblungo, alcune che hanno il viso triangolare, insomma, e quindi, qua ci sono dei tagli di capelli, che sicuramente, le sciampiste sapranno, andate dalle sciampiste, che sapranno consigliarvi, per come fare i capelli, fondamentalmente, no, ovviamente, a prescindere dal taglio, e dal colore, una chioma di capelli sani, lucenti, setosi, folti, è più seducente, punto, e questo è un dato di fatto, però, ognuno poi sceglierà le cose, no, poi, ovviamente, questo è il primo, è il punto fondamentale, poi, ovviamente, c'è tutto il discorso, c'è tutto il discorso, delle, come dire, cerette, contro cerette, ovviamente, non dovete presentarvi pelose, come l'orso yogi, oggi, diciamo, che ci sono anche le depilazioni, i peli non piacciono, i peli, a parte nei capelli, agli uomini non piacciono, poi ci saranno i feticisti, che amano la donna pelosa, quelli che, donna baffuta, sempre piaciuta, donna pelosa, donna virtuosa, ci saranno anche i feticisti, dei peli, ma, in generale, in generale, diciamo, a parte qualche feticista, del pelo, tenete presente, che il detto, donna baffuta, sempre piaciuta, non è vero, e donna pelosa, donna virtuosa, può essere vero, perché non salvò, trombare nessuno, però, diciamo, oggi, diciamo, l'epilazione, diciamo, che dovrebbe essere, una cosa, che non dovrebbe, uno non dovrebbe neanche, da dire, insomma, anche il cespuglietto, lì, che, il cespuglietto, che negli anni 70, andava di moda, no, il cespuglietto, nella zona, nella zona calda, secondo me, non è apprezzato, e probabilmente, non è neanche igienico, credo, che non sia neanche igienico, anche perché, insomma, si possono fermare, delle cose, fa un po' schifo, fondamentalmente, è una questione di igiene, secondo me, anche, quindi, la depilazione integrale, secondo me, tutto sommato, è sempre la cosa migliore, però, degusti e bursano disputando mess, ci sono anche i feticisti, insomma, fondamentalmente, poi, anche lì, va bene, ci sono gli estetisti, che daranno consigli migliori, dei miei, fondamentalmente, io non è che voglio, passare per, per l'estetista, cioè, non, però, ecco, i modi di fare, sono importanti, ecco, una donna di qualità, la riconosciamo anche, dei modi di fare, non devi essere grossolana, deve avere dei modi raffinati, cioè, una donna di qualità, ha dei modi raffinati, non è grossolana, se sei grossolana, non sei una donna di qualità, una donna di qualità, non è una donna grossolana, è una donna, che, sa muoversi, diciamo, non dice parolacce, le parolacce, può dirle un uomo, perché fanno un po' da macio, ma la donna, no, tanto, men che meno, la bestemmia, una donna che bestemmia, può essere figa, finché vuole, ma scade, a livello proprio bassissimo, quindi, una donna di qualità, deve conoscere le buone maniere, deve conoscere le regole base, da seguire in ogni contesto, anche a tavola, non puoi maniare, come se non ci fosse un domani, soprattutto, se conosci un uomo di qualità, la buona educazione, la raffinatezza, l'eleganza, sono dei must, per una donna di qualità, le burine, le cacciottare, le sciampiste, non vanno bene, buona educazione, raffinatezza, eleganza, sono la base, di una donna di qualità, ripeto, buona educazione, raffinatezza, buona educazione, raffinatezza, ed eleganza, questi sono punti, fondamentali, devi conoscere le buone maniere, le regole base, diciamo, non è che devi imparare, le regole base, del bon ton, fondamentalmente, allora, ci sono alcune regole, no, cioè, se sei a tavola, devi stare attento a non sbrodolarti, no, quelle che, cioè, masticare, non con la bocca aperta, non sbrodolarti, no, se prendi la zuppa, o la minestrina, o il minestrone, poi ti sbrodoli dappertutto, usa il tovagliolo, fondamentalmente, fai qualcosa, no, c'è un, c'è un video interessante, no, di fantozze alla cena, che taglia la cosa, e parte, parte, parte la cosa, boom, bisogna cercare di fare le cose, fatte bene, altra cosa, non bere alcolici, non devi bere alcolici, non devi bere alcolici, cioè, puoi bere un calice di vino, ma una donna che beve alcolici, fa veramente cagare, soprattutto le donne che bevono super alcolici, evita, evita di, a parte che fa male, ma un calice di vino, un calice di prosecco, ma un calice, non che te ne sgoli mezza bottiglia, perché ci fai la figura di una finazzata, ci fai la figura di un etilista, ti puoi bere un calice, un calice va benissimo, ma non è che te ne bevi un mezza bottiglia, oppure lì tra canni, perché certo, che magari verrai vista come un troione, verrai vista come una zoccolona, e questo è un punto fondamentale, sembra una vinazzata, evita di fumare, evita, cioè, se hai il vizio del fumo, toglitelo, il vizio del fumo fa cagare, le donne che fumano fanno cagare, hanno un alito da posa cenere, fanno schifo, poi, è ovvio che se ti metti con uno che fuma più di te, magari non se ne rende conto, fumate assieme, schiattate, diciamo, avete, vi create la vostra nuvoletta, e via, però, diciamo, una donna di classe, non fumà, non fumà, mettete, fatevi, che fa male tra l'altro, e questo, un'altra cosa, che dovete tenere presente, neanche quelle puttanate, di sigarette elettroniche, alla fine, comunque, queste sono regole base, ad esempio, se vai, per dire, se per caso, quello ti invita a cena, se per caso, quello ti invita a cena, non è che tu, quando ti siedi lì, inizi a mangiare, panni e grissini, come se non ci fosse un domani, non devi far vedere, che sei affamata, perché questo dice, ma chi cazzo è questa, magna come una roba, no, quelle che insiedono a tavola, e nell'attesa, che arrivi il primo, iniziano, o qualche cosa, iniziano a sbaffarsi, grissini, pagnotte, e mangiano, e mangiano, e bevono, che sono arrivate, diciamo, arrivo alla prima portata, che quelli, si sono già spazzolate, tutto il pane, e dicono, scusi, mi può portare ancora del pane, scusi, mi può portare ancora del pane, e va, che cazzo è, cioè, stai attenta, no, ci fai una figura, di una, che magna, come se non ci fosse un domani, questo è un punto fondamentale, no, è interessante, cioè, dovete comportarvi bene, insomma, cercare di avere un minimo di bon ton, fondamentalmente, no, quelle che poi, be, caffè, ammazza caffè, rompi caffè, cazzo, grappa, grappino, è accidenti, fate attenzione, poi, ovviamente, c'è tutto il discorso, del, diciamo, ah, un'altra cosa, se una volta che hai bevuto un calice di vino, questa è una cosa importante, se una volta che hai bevuto un calice di vino, lui ti vuole offrire altro vino, declina, 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 ma allora, ci possono essere ragazze che fanno tutto il contrario, e avranno dei ragazzi stupendi, ma avranno dei catramisti stupendi, non avranno dei ragazzi stupendi, perché un uomo di qualità, una avvinazzata non se la piglia, un troione da corsa non se la piglia, se poi volete fare le avvinazzate, i troioni da corsa, diciamo, fate come volete, comunque, stavo dicendo, se diciamo, proprio andare, vai diciamo su due, ma altrimenti evita, evita, beh, è meglio essere criticata perché non bevi, che perché bevi, questo è un punto fondamentale, ovviamente può essere, diciamo, ecco, condividere il cibo con un'altra persona, se vai a cena con uno, prendegli la cosa dal suo piatto, puoi farlo soltanto se hai confidenza, se sei in relazione già con quella persona, non è che la prima sera che esci con uno, gli dici, scusa, prendo un attimino, assaggio il tuo raviolo, e gli freghi il raviolo dal piatto, diciamo, è un po', essere, diciamo, essere femminili, è un po', è un po' importante fondamentalmente, no, questo, poi, vabbè, ci sono altre cose, insomma, far rumore quando mangi, fa schifo, parlare col cibo in bocca, fa schifo, insomma, e bere non avendo inghiottito il cibo, fa schifo, insomma, questo è un punto, è un altro punto, è un altro punto fondamentale, no, poi ci sono tutto quello che riguarda, il come comportarti, no, di cosa parlare, allora, quello di cui devi parlare, è parlare poco di te, parlare poco di te, far parlare all'altra persona, questa è una caratteristica fondamentale, perché gli uomini già, tendono a parlare di loro, se tu li fai parlare, ottieni dei risultati, non devi stare a parlare tu, troppo, in questo mondo, verrai vista come una donna di qualità, ovviamente, questo è l'apparenza, però, ci deve essere anche la sostanza, la sostanza vuol dire che tu devi essere una donna indipendente, che ha un lavoro suo, ha un'auto sua, non devi essere una che non guida, devi avere un'auto, devi saperti muovere, devi sapere andare, devi sapere fare, devi essere indipendente, devi essere indipendente, non puoi essere una che dipende dagli altri, eh, ma io non guido, eh, no, io di sera non guido, eh, no, eh, no, eh, e allora vai a piedi, no, mi rompo i coglioni, pigliati un taxi, se non guidi, pigliati un taxi, e non rompi i coglioni, eh, queste sono tutte un po' le cose fondamentali, poi ovviamente, ognuno fa quello che vuole, però se vuoi apparire come una donna di qualità, queste sono delle cose importanti, che in poco tempo, ti fanno, eh, parlare, ovviamente, i discorsi, devi far capire che sei, una donna seducente, ma che non sei un'oca, allora, essere seducente, non vuol dire soltanto il vestito, il coso, eccetera, ma vuol dire anche saper gestire una conversazione, quindi avere un minimo di cultura generale, eh, avere, diciamo, puoi fare la finta tonta, Marilyn faceva l'oca, ma non era oca, Marilyn Moro, che secondo me era molto seduttiva, faceva l'oca, ma non era oca, quindi essere oca non funziona, e una donna di cultura, una donna che ha una cultura, essere di cultura non vuol dire che devi essere laureata, eh, non sto dicendo che devi essere per forza laureata, ma devi avere una cultura, devi interessarti, devi leggere, devi fare, devi interessarti, devi avere una, una, una capacità, no, di comunicare, la donna ideale, la donna ideale, diciamo, di qualità, non è soltanto una, eh, una biondona, eccetera, ma è anche una donna determinata, sicura di sé, intelligente, colta, sono concetti importanti, no, diciamo che l'intelligenza viene definita come un complesso di facoltà psichiche, mentali, di adattamento alla realtà, e quindi la capacità di adattarsi alla realtà, la cultura, per me, non la cultura base, no, cioè, sapere i classici, sapere qualche cosa, è importante, no, e coltivare anche la spiritualità, se vuoi un uomo di qualità, dovreste anche coltivare la spiritualità, sono cose importanti, poi se invece ti va bene un ignorantone, catramista, che è oltre, diciamo, alla Juventus e Torino, non sa nient'altro, allora va bene, allora puoi anche essere una deculturata, decerebrata pure tu, ma se cerchi un uomo di qualità, avere un minimo di cultura per portare avanti un discorso, e questo credo che sia un punto fondamentale per apparire come una donna di qualità, anche la voce, tutta la parte non verbale, adesso diventerebbe troppo lungo e dura da portare avanti il discorso, mi fermo, però anche la voce è importante, quindi la capacità di utilizzare, diciamo, la paralinguistica nel modo giusto, ma farò un video apposta sulle capacità non verbali, per il momento mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica di...